La vicenda Aquarius, al di là dell'elemento di disumanità che ha segnato quel passaggio, avrà come conseguenze un forte isolamento dell'Italia, che mi auguro sia recuperato. Io comprendo che quando si entra in conflitto con altri paesi si può anche pensare di riscuotere un consenso significativo in una situazione di difficoltà come quella che vive il paese, cioè dare la colpa agli altri può funzionare dal punto di vista della campagna elettorale. Non funziona nel lungo termine perché noi abbiamo bisogno degli altri così come gli altri hanno bisogno di noi.